Nel derby Lombardo della 27esima giornata la Germani supera le A7 88-85 dopo un'overtime, strappa la quinta vittoria nelle ultime 6 partite e sale a 38 punti in classifica. Si interrompe a nove incontri la striscia positiva di Milano che rimane a quota 42 in graduatoria e viene agganciata da Venezia in testa. I campioni d'Italia per il più 4 dell'andata al Forum sono primi ma alla trentesima ci sarà proprio Reier Olimpia. Positivo l'approccio dei fratelli Vitali e di Sacchetti 24 a 18 al decimo. In avvio di secondo periodo Foll e Traini allungano più 13 Leonessa. Geralds, Gudaitis e Gaudelok guidano la reazione delle Scarpette Rosse parziale di 11 a 1 e meno 3 al sedicesimo. 48 a 45 all'intervallo. In apertura di ripresa Ortner e Luca Vitali restituiscono 8 lunghezze di attivo a Brescia. 64 a 60 al trentesimo dopo questa magia di Cotton all'esordio con la maglia della Leonessa. Equilibrio nella quarta frazione, parità al trentanovesimo e al quarantesimo. Supplementare decisivi Lendry e Luca Vitali. 7 su 26 da 3 per Brescia contro il 9 su 37 degli avversari. 21 e 9 rimbalzi per Lendry. 15 per Michele Vitali. 14 e 5 falli subiti per Luca Vitali. Dall'altro lato 22 e 5 falli subiti per Gaudelok. 14 con il 100% al tiro per Gudaitis. 10 i palloni catturati da Pascolo.